Per renderti la vita più facile, per chi come te ha così poco tempo a disposizione. C'è chi con capacità, professionalità e preparazione risolve tutti i tuoi problemi e quelli della tua auto. Centro Servizi Caruso di Valentina Caruso ad Anagni, Osteria della Fontana via San Giuseppe, visure al pra, certificati, camera di commercio, pagamento bollo auto, servizi amministrativi, trasferimenti di proprietà, immatricolazione di veicoli nuovi, rinnovo patente con medico in sede il giovedì, duplicati della carta di circolazione. Centro Servizi Caruso di Valentina Caruso, Agenzia Pratiche Auto ad Anagni, Osteria della Fontana via San Giuseppe, Telefono 0775 76 93 88 Ti aspettiamo!